L'articolo 8 regola i rapporti con le altre confessioni religiosi. Tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge, purché non facciano delle cose che sono impedite dalle leggi dello Stato italiano. Lo Stato è laico, dà libertà alle confessioni religiose, a tutte le confessioni religiose che non sono quelle cattoliche. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao, al prossimo video! Mi aspetto!